Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro. Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te? E' questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Tieni, massaggia di piedi da solo. Dì la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli? Beh, perché dici una cosa tanto orribile, come può venirti in mente? Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata. Ho sentito, ho sentito, ho sentito. E allora dillo. Ecco Regi, ascoltami, c'è una cosa che vorrei spiegarti. Non importa, non importa, ci vado da sola. Ma che vuoi che gli risolvano a loro 250.000 dollari? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse... Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse.